Scusate ritardo, siamo molto contenti che siate tutti qui e grazie per essere venuti da ogni parte d'Italia per festeggiare il nostro matrimonio, che però non si fa più. Sì, noi non ci sposeremo perché siamo molto innamorati e felici e questa è l'unica certezza che abbiamo, perciò non ci andava di categorizzare. Sì, di ufficializzare questa cosa, di fare delle promesse solenni per tutta la vita, per l'eternità, perché insomma abbiamo appena cominciato e vorremmo tenere stretta questa felicità che c'è, poi te la dimentichi sempre. Viene molto male spiegato così. Io te l'ho detto, quelli in prima fila mi stanno facendo cagare sotto. Molti di voi saranno arrabbiati, la tentazione di sposarci lo stesso è stata forte, ma non potevamo fare questo errore. Comunque, anche se non ci sposeremo, vorremmo festeggiare lo stesso, visto che siete venuti qui in 230, sarebbe uno spreco, no? Anche uno spreco alimentare, visto che ci hanno appena portato sei tonnellate di pesci spada da scilla. In fondo siete venuti qui per celebrare la nostra felicità. E questo è più o meno quello che... Beh, dico sì, cioè saremmo contenti se veniste a cenare con noi per celebrare la nostra felicità. Sì.